Quello che ti dà è veramente una cosa essenziale di vita, quindi vi rendete conto che poi ne sentirete proprio il bisogno, la mancanza. Quando torni a casa stanca, ma proprio senti voglia di andare a offrire una mano che ha bisogno. Il ruolo del volontariato e del tendere una mano all'altro spiegato ai ragazzi dalla Misericordia di Arezzo, che partecipa in questi giorni al Campus Salone dello Studente in corso all'Arezzo Fiere Congressi. Per il volontariato mettiamo a disposizione il nostro ente per fare esperienza in ambito dell'assistenza sanitaria. Parliamo anche dei nostri corsi per diventare soccorritore, in particolare per quanto riguarda il corso base appunto presentiamo una parte del programma che è costituita dalle manovre di disostruzione e anche dell'utilizzo del DAE. Inoltre parliamo di servizio civile che da noi è costituito dall'assistenza sociale e appunto i ragazzi vengono da noi e possono fare esperienza e possono fare questo percorso che è importante per capire il ruolo sociale di dare una mano, di fare assistenza. Chi sceglie di diventare volontario o chi di avviare un percorso per il servizio civile, i ragazzi imparano così cosa vuol dire aiutare gli altri, crescono e magari trovano la loro strada. Secondo me possono dare tante esperienze lavorative anche a crescere proprio in maniera personale. Applicare le piastre sulla bella e nuova esattamente come illustrato nelle immagini. Premere sulle piastre affinché aderiscano bene. Lei non smette mai. Sicuramente è stata un'esperienza importante, magari in futuro saprò come farlo meglio di prima, quindi sì. E i volontari si cercano anche per la tribù dei nasi rossi. Dà tantissime emozioni, regalare sorrisi a tutto tondo, non solo ai bambini, anche agli anziani, agli adulti, qualsiasi fascia di età, ridere fa bene. Serve anche a aumentare, a velocizzare la guarigione, stimola tanti ormoni. Io sono un vero dottore, sono tutti i termini tecnici. E quindi funziona a livello di terapia e ci divertiamo. Siamo noi in primo luogo a divertirsi, col naso rosso ci sentiamo potentissimi, facciamo di tutto. Il naso rosso toglie tutte le barriere, quindi possiamo entrare in contatto con qualsiasi persona di qualsiasi fascia di età. Quindi va, aspettiamo.